Nell'ambito di servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, attuati anche a seguito di numerose segnalazioni relative al ritrovamento di siringhe da insulina abbandonate per strada, i poliziotti della squadra mobile nei giorni scorsi attenzionavano numerosi tossicodipendenti e noti spacciatori del capoluogo. Di uno di questi, in particolare per il suo atteggiamento sospetto e guardingo, venivano monitorati i movimenti. Nel pomeriggio i poliziotti decidevano di entrare in azione effettuando una perquisizione domiciliare. Gli agenti si presentavano quindi nell'abitazione dello stesso in via Retusa per eseguire una perquisizione, trovati complessivamente 10,7 grammi di eroina. L'uomo è stato segnalato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga e un bilancino di precisione sono stati sottoposti a sequestro.